Mamma mia ragazzi che partita di merda Che calcio italiano di merda e meritiamo sempre peggio Tutte ste robe con tutti questi allenatori che esaltiamo come Allegri Ma anche lo stesso Sarri perché sapete a me piace un certo tipo di calcio Ma la cosa che ho sempre criticato a Maurizio Sarri è il fatto che ha solo un copione A differenza di altri che fanno un calcio più propositivo O propositivo comunque in generale E lui comunque ha sempre il solito copione Trova Allegri che in questo momento qua è un attore che Non è chissà che ne è un attore però trova sempre delle difficoltà a affrontare lui Cioè appena trova le squadre chiuse va in serie a difficoltà Sarri Va in serie a difficoltà Poi se noi andiamo a vedere però Durante la partita ci sono stati due tiri in porta che sono i nostri Il gol e ancora prima colpi testa e rabbio basta Adesso non mi ricordo C'è stato il tiro fuori là di Ken all'ultimo Che mai era fuori gioco Quindi alla fine sono due tiri Cioè due tiri In totale Per entrambe le squadre Ok In 95 minuti Cioè ragazzi Ma avevo visto anche l'Inter Atalanta Primo truppo Ragazzi Sì l'Inter ha fatto meglio Ma adesso ripeto non voglio parlare di calcio italiano Perché dopo viene discorso Però Cioè proprio vedi il calcio italiano quanto indietro E non è solo un discorso di soldi Di qualità È proprio un discorso di mentalità Di allenatori che non mettono un qualcosa in più a livello moderno Ecco Abbiamo vinto 1-0 Contro una Lazio Che io non mi aspettavo Io mi aspettavo Una sconfitta di misura E non una vittoria di misura Mi aspettavo 1-0-1 E non 1-0 Non è che cambia Mi cambia il mondo Ripeto La Coppa Italia Come l'Europa League Sinceramente non è che mi cambi tanto Sì per il discorso di Coppa Europea Ma poi se ti squalificano comunque Quindi Non cambia tanto Non cambia tanto Vabbè Al di là di questo Parlando un'attima partita Primo tempo Abbiamo fatto gol all'ultimo Ma abbiamo fatto un buon Un buon primo tempo di intensità Sicuramente Meccanismi Vabbè Inoltre chiede meccanismi ad Allegri Non ce ne sono Vedi proprio I ruoli I reparti Staccati l'uno dall'altro Compatto Quando Cioè Una squadra compatta Quando deve difendere Con il 5-3-2 Solito Meno compatta Quando deve impostare Vedi proprio i ruoli Cerchiamo di impostare da dietro Di ripartire da dietro Ma Abbiamo proprio i ruoli staccati I reparti staccati Tant'è che molte volte Facciamo fatica O la dobbiamo lanciare su O sbagliamo il passaggio E Insomma Ripartiva la Lazio Senza esiti Perché La Lazio è molto lenta Molto macchinosa Luca Telli oggi mi dispiace Per me non è un discorso di davanti La difesa Quanto altro Io l'ho detto oggi In una live Ad esempio Con Chiesa di Maria insieme Per me Allegri Non si Lo dico da qualche mese Come vi dicevo No Prima della partita Della prima partita Di campionato Dicevo Allegri schiererà All'inizio La difesa 4 Perché ha giocato Sempre a 4 In preparazione Poi è passato La difesa 3 Per me è sbagliando Ma al di là di questo Perché purtroppo Non sa lavorare Lui Deve trovare la pappa pronta E vabbè Ma quando è passato La difesa 3 Barra 5 Ho detto Che fino a che non prende Una serie di imbarcate Non una ogni tanto Ma una serie di imbarcate Da difesa 3 Barra 5 Per me non si scosterà Neanche Qualora tornassero I titolarissimi Cioè Pogba Chiesa e quant'altro Io continuo a pensare Che adesso che si è fatto Mare Milik Ehm Alternerà di Maria Alternerà di Maria Chiesa Per fare il sottopunta Con Ken e Vlaovic Che si alterneranno Come prime punte Ecco Non Siccome Li vedremo insieme Ma difficilmente Cioè Raramente Ecco E io con la difesa 3 Vedrei bene Un 3-4-1-2 Dovessi scegliere No Con Io sapete Io ripudio Difesa 3 Ma conoscendo Allegri No Basandomi in attimo Su quella Con la difesa 3 Che tra l'altro Due bracetti Non sono due bracetti Perché sì Poi sono diventati Braccetti Danilo e Alexandro Ma non lo sono Ok Quindi Chiesa in porta Danilo, Bremer e Alexandro Quadrado Uno tra Paredes Locatelli Fagioli Miletti Mettete Chi cazzo lo volete Tanto in questo momento qua Tra questi 4 Neanche Vabbè Io metterei più Uno tra fagioli e Miletti Se devo essere sincero In questo momento qua Vabbè Più fagioli Che Miletti Che per me è detta Più tempi Fagioli rispetto a Miletti Miletti per me è un giocatore Più da insedimento E appunto Rabiot E poi Kostic Di Maria dietro Chiesa e Vlau Ma non lo farà mai Per me Continuerà a usare Il 3-5-2 In fase di un possesso Ovviamente 5-3-2 Con Tutti quelli che vi ho detto Praticamente Più un centrocampista In più Che può essere appunto Il mediano davanti Difesa Quindi che può essere Un Locatelli Un Paredes E appunto Poi alterna Chiesa e Di Maria Dietro a Vlau In questo momento qua Quindi con un 3-5-1-1 Più che un 3-5-2 E questo A parte questo Appunto la partita Poi in secondo tempo Siamo scesi Come al solito L'abbiamo aspettato Abbiamo prestato di più Rispetto al solito Abbiamo tenuto più pressing In maniera più continuativa Il pressing E l'intensità Tra virgolette Abbiamo tenuto più alto Il pressing Quando ripartivano da dietro Quando Perdevamo palla In attacco Abbiamo riaggredito Molto L'avversario Subito Immediatamente Cosa che di solito Non facciamo Ma è stata una partita Non eccezionale Cioè qualcuno dirà È stata un'ottima partita Siamo abituati a vedere La merda Una partita del genere Sicuramente ti dice È stata una partita Al di sopra Della mediocrità Nostra E basta Cioè finisce lì Ma per il resto Non è che Sia stata Chissà che grande partita Parlando un attimo Degli individui Bremer ha alternato Delle buone cose Cose meno buone Secondo me Ha fatto il gol Poi vabbè Vedremo i voti Sono deciso Tra il 6 e il 6 e mezzo Per lui ad esempio Locatelli a me Non è piaciuto per niente Fagioli Ha alternato anche lui Buone cose Ma non A Fagioli Cioè Lo vedo tanto pompato Però Rabio anche lui Siccome è Dopo mondiale Non è più quello di prima Ma non avevo dubbi Costi C'è oggi A parte l'assist Che vabbè Adesso ha fatto un assist Adesso tornerà a fare cagare Per 6 partite di fila Dopo l'assist Ha fatto meglio Rispetto al solito Secondo me Per il resto Chiesa non mi è piaciuto Di Maria è entrato E ha fatto vedere Che comunque anche da fermo In un campionato di merda In un calcio di merda Come quello italiano Il suo lo fa Se gioca da fermo La qualità ce l'ha A volte esagia Secondo me Vabbè Per il resto Partita veramente Boh Non so Non so anche come definirla Cioè Questo è il calcio italiano Ragazzi Questo è il calcio italiano E dobbiamo tenercelo Io non Non sono entusiasta Di questa partita C'è stata una relazione Dopo il Monza Sicuramente C'è stata una relazione D'orgoglio Si punterà Alla Coppa Italia Anche se io ripeto Cazzo Non vrei tanto L'Europa League Non lo so Sinceramente come andrà Adesso c'è il doppio confronto Con l'Inter Ecco L'unica cosa L'unica cosa positiva È che possiamo Passare il turno Contro l'Inter Come quella volta Che vincemmo L'ultima Coppa Italia Che abbiamo vinto Con Pirlo Che abbiamo eliminato Nel doppio confronto L'Inter Quindi L'unica cosa Potrebbe essere quello Ecco Quindi Staremo a vedere Staremo a vedere Boh Io Per il resto Per il resto Cosa c'è da dire Ancora Ma Vabbè Per quanto riguarda L'aspetto tattico Ragazzi Come vi ho detto sempre Fase di non possesso 5-3-2 Fase di possesso 3-5-2 3-5-1-1 3-5-2 Beh ripeto Solite cose C'è Pochi movimenti Ripeto Rispetto al solito Abbiamo fatto Un po' più di pressing Ecco Ma lì è di tutto Ormai Allegri Probabilmente rimarrà Fino all'estate Quindi Speriamo non oltre Quindi spero che In estate se ne vada E Giudichiamo queste partite qua Che vediamo Che per me è stata una partita Comunque Amorfa Ecco Diciamo così Allegri batte Un'altra volta Sarri Sarri È limitato Lo sappiamo Non è Io anche quando è arrivato Alla Ju E ho detto Questo è un ridimensionamento Perché dopo Allegri Mi sarei aspettato Un allenatore da Champions No Che avesse vinto la Champions League Sarri per me Non è un allenatore del genere Non è un allenatore Che altro da Top Club Aveva tanti limiti Poi ovviamente Cerco di trarre Le cose buone Da quell'allenatore lì Che per me Sarri ne ha Cioè Sa di calcio Sa creare meccanismi offensivi Ma sa solo Un tipo di Schema Quello è il problema E Poi trovi queste squadre qua E Le squadre di Sarri Vanno in difficoltà Succedeva con i Napoli Succedeva Alla Juve E succede adesso Con la Lazio Anche col Chelsea Anche se col Chelsea È un grande limite Di Sarri E Sarri Ha fatto Lo ammiro Per la gavetta Che ha fatto Non è stato Diciamo spinto Da dietro Però è un attore Da queste squadre qua Siccome Lazio Cioè da squadre Che si lottano Il quarto posto Ecco Non squadre che devono Vincere costantemente Quella volta è capitato a noi Ma Per puro caso Però Con noi Secondo me Ha fatto anche bene Sotto questo aspetto E Niente Immobile Classico giocatore del cazzo E vabbè A me non è piaciuto Eh Sul discorso Vlaovic Ragazzi L'ho visto molto Vlaovic Ragazzi Tecnicamente a me non piace Ma lui non può Cioè io ho visto La maggior parte di palle Che ha toccato L'ha toccata Fuori dalla rigore Degli avversari Non è possibile E nel secondo tempo Quando è stato sostituito Da Ken Abbiamo chiuso E voi guardate Voi guardate Dove Allegri Fa giocare l'attaccante Il numero 18 Moise Ken Giocava al limite Della rigore nostra Ma non esiste proprio È normale che poi Questi qua arrivano Stanchi Davanti a porta E sbagliano i gol O sbagliano i passaggi Vlaovic soprattutto È un giocatore Che non puoi usare Come hai usato Gli altri attaccanti Che hai avuto Come Higuain Come Mandzukic Mandzukic Come Questi giocatori Come Morata Ma Vlaovic è un giocatore D'area di rigore È come se tu usassi Un Inzaghi O un Treseguet Tu devi usarlo Per quelle caratteristiche Là Punto A me Vlaovic non piace Per me non sarà mai Un top player Cioè Poi magari Non significa che poi Non vai in una squadra Forte E segna valanghi di gol Ma A livello Diciamo Non sarà completo Ecco Non sarà mai un attaccante Completo Non sarà mai un attaccante Che a me piace Però Bisogna dire Dal canto suo Che È a favore suo Che Allegri Non lo sfrutta Per le caratteristiche Che ha C'è poco a fare Sbaglia il stop Scarso Trinamente Per carità Ma devi sfruttarlo Per quello che sa fare bene Cioè i gol Creare occasioni davanti Abbiamo avuto due palle gol Uno su un difensore Prima del gol Uno sul centrocampista L'altro sul difensore È troppo poco È troppo poco Poi ti va bene Ti va bene Oh Due partite Beh Cioè Due partite Non hai rischiato un cazzo Quest'anno sono state contro la Lazio Se noi dobbiamo dire tutta Poi trovi anche una squadra Che magari meno quotate la Lazio Ma Ha più Soluzioni Ha più fame Ha più cattiveria E perdi Però la gente va bene così Vince una Zai Va bene l'importante Questo è uno scontro diretto Va bene così E va bene Continuiamo a ragionare così Che per una coppetta del cazzo Va bene così Fino alla fine Forza Juventus Sempre comunque Stadio mezzo vuoto Dovrebbe essere sempre così Secondo me in questo momento Ma vabbè A parte le curve Alla prossima E ci vediamo domani Ovviamente con tutta la programmazione Della Juventus Ciao a tutti Ciao a tutti